Tanti di voi mi chiedono, ma come costruisco e come gestisco il mio portafoglio? Devo metterci all'interno quanta percentuale di oro, quanta percentuale azionaria, ci vogliono le obbligazioni, ci vogliono le materie prime? Come facciamo a costruirci un portafoglio adatto alle nostre esigenze, ai nostri obiettivi? Un portafoglio che rispecchi anche il nostro livello di rischio? Andiamo a vedere proprio questo argomento con questo video, vi darò uno strumento, vi presento in realtà un sito internet dove possiamo andare a sceglierci, a costruirci il nostro personalissimo portafoglio ma soprattutto tramite il quale possiamo andare a vedere qual è stato il rendimento storico del portafoglio che ci andiamo a costruire in modo tale da valutare sia se i vari livelli di rendimento, i vari livelli di rischio sono quelli che ci possiamo aspettare o meno sono quelli idoni per appunto i nostri obiettivi e la nostra personalissima situazione. Quindi passiamo subito a schermo e vediamo anche come in questo caso andiamo a rispondere a una delle vostre tante domande, quindi non dimenticate di riempire di commenti tutti i video YouTube perché appunto rispondiamo tramite questi video ai vostri commenti. In questo caso abbiamo Ferdinando Colella che ci chiede, ma secondo te è un errore costruire un portafoglio solo su ETF azionario ed ETC euro, tralasciando l'ETF obbligazionario? O comunque potrebbe bastare per difenderci in caso di crisi? Quindi abbiamo appunto una domanda proprio in questo senso, cioè come lo costruiamo? Dive esserci l'oro? Dive esserci l'obbligazionario? Cosa facciamo? Vi presento subito il sito internet che vi darà la possibilità di andare ad analizzare diverse tipologie di portafogli, adesso vediamo, entriamo subito nello specifico. Il sito ovviamente ve lo lascio qui sotto in descrizione e vediamo come da questo sito abbiamo qui tanti tanti portafogli in modello, ma possiamo poi anche costruirli noi stessi in base alle nostre esigenze. Quindi vediamo come ce ne sono veramente veramente parecchi e passiamo dal 100% azionario, che è quello che andiamo a vedere immediatamente, perché è il portafoglio che stiamo usando, nell'esempio di Vivere di Dividendi, al famosissimo, lo andremo a vedere anche in questo video, All Season di Ray Dalio, che è uno di quei portafogli molto molto conservativi, se vogliamo chiamarlo così, che comunque protegge davvero tanto in caso di crisi del mercato, ma che comunque garantisce dei buoni rendimenti, come lo vedremo tra un attimo. Potete scegliere tutti i vostri portafogli, potete entrare ed analizzarli. Io in questo caso appunto vi presento il portafoglio 100% azionario, ma giusto a titolo esemplificativo, quindi andiamo a vedere cosa succede con un portafoglio 100% azionario, ma vedremo come potete poi aggiustarli in base alle vostre singole esigenze. Ovviamente tutti questi non sono assolutamente consigli finanziari, io non sono un consulente finanziario, non è un invito all'investimento, è solamente una fase formativa, quindi lasciate un bel like a questo video per supportare il canale, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, per diventare sempre, ogni giorno di più, un investitore consapevole. Vediamo appunto cosa ci dice il sito in base al portafoglio che vogliamo crearci. Ovviamente qui in questa prima grafica possiamo metterci noi le percentuali sulle varie asset class, quindi le azioni, le obbligazioni, le commodities, l'oro, quindi metteremo le varie percentuali in base a come vogliamo crearci il portafoglio per poi avere risultati dello storico del rendimento dello stesso portafoglio. In questo caso stiamo vedendo il 100% azionario americano. Quindi vediamo come subito nella seconda grafica ci fa vedere, ok, nel 100%, se avessimo avuto un portafoglio fatto in questo modo, 100% azionario americano, dal 1970 ad oggi come avrebbe performato questo portafoglio. Vediamo come in questo caso abbiamo che questa prima grafica ci dice come il portafoglio rende tra il 10 e il 20% nel 35% dei casi, tra il 15 e il 20% dei casi ci ritroviamo ad avere dei rendimenti da 0 a 10 o da 20 a 30 e così via fino a scendere, fino a avere ovviamente rendimenti anche soprattutto negativi perché ovviamente un portafoglio, adesso lo vedremo un mine completamente azionario, ha tanta tanta volatilità. Infatti quest'altro grafico che non è altro che una rivistazione di questo precedente, questo precedente appunto ci dà appunto, vedete questa specie di forma di campana, no? Quindi dove al centro abbiamo quello che è il valore che più probabilmente si verificherà e ai lati i valori che si verificheranno con meno probabilità. Questo dato che leggite qui, deviazione standard, ti dice appunto quanto i valori all'interno della performance di questo portafoglio si discostano da quello che è il valore attiso centrale. Infatti se andiamo a vedere subito quest'altro grafico, vediamo come appunto il rendimento anno per anno di questo portafoglio è molto molto variabile, quindi abbiamo dei picchi al 30% ma anche delle valli al meno 40%, infatti vediamo che in questi due punti ha raggiunto meno 40% ed è proprio questo meno 40% che andiamo a leggere in questo caso. Quindi mentre la media attisa è appunto questa qui, nel 30% dei casi abbiamo tra il 10 e il 20% di rendimento, però vediamo anche come poi ci siano, si discosti tanto e questo discostarsi parecchio da quella che è la media attisa viene misurato appunto con questa deviazione standard e quindi è un parametro molto importante per tutti coloro che vogliono invece avere un portafoglio che magari si comporti in maniera più, meno volatile se vogliamo. Quindi più basso è questo valore, più il portafoglio avrà un comportamento diciamo meno volatile. Passiamo, vediamo quali altre informazioni utili possiamo avere da questo tool, da questo sito. Questa è un'altra informazione molto molto utile perché ci dà la crescita del portafoglio. Cosa possiamo vedere in questo grafico? Se il nostro portafoglio, per esempio, starting value, quindi il valore di partenza, partiamo da, poniamo di partire con un investimento di 10.000 euro, in questo caso sono dollari, però per fare l'esempio 10.000 dollari, poi ogni anno contribuiamo magari con 5.000 dollari e vogliamo raggiungere invece un target, poniamo di 400.000 euro finali. Quindi 1, 2, 3. Vediamo come una volta inseriti questi dati il grafico ovviamente si aggiorna e ci dice, bene, potrai raggiungere il tuo target in un minimo di 15 anni fino a un massimo di 29 anni in funzione appunto di come performerà il mercato. Ma storicamente, in base ai rendimenti storici, ci si può attendere di raggiungere questo valore in questa finestra temporale. Qui ovviamente, giocando sui parametri, possiamo andarci a valutare quella che potrebbe essere la nostra situazione in base a quello che è il nostro valore di partenza, a quanto riusciamo a risparmiare ogni anno e soprattutto all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Un altro tool molto molto importante, credo che questo sia davvero quello fondamentale, è appunto l'analisi del drawdown. Che cos'è il drawdown? Ci rappresenta sostanzialmente la massima perdita che possiamo avere con questo tipo di portafoglio, con questo tipo di investimento. Lo leggiamo qui, nell'arco appunto di questi 13 anni, abbiamo che il più profondo, la perdita maggiore che abbiamo avuto è stata del 49% che è qui, al secondo anno. Quindi abbiamo avuto storicamente, possiamo raggiungere storicamente delle perdite fino al 49% in un determinato anno. E qui in pratica ci fa vedere appunto quanto le varie perdite possono essere nei vari anni ed è fondamentale per il nostro livello di rischio. Quindi possiamo vedere questo grafico per capire se il livello di rischio, ovvero la perdita massima che questo portafoglio ci sottopone è accettabile per i nostri obiettivi, per il nostro carattere anche se vogliamo. Vedremo anche come questi dati saranno molto molto diversi in un portafoglio più bilanciato come l'old season che andremo a vedere tra un attimo. Quindi in questo caso con il 100% azionario possiamo avere delle perdite molto importanti anche fino al 50%. E questa è un'altra delle ragioni per la quale ovviamente non invito sempre a non copiare assolutamente quello che stiamo facendo con il portafoglio di vivere di dividendi perché stiamo facendo un portafoglio del 100% azionario perché possiamo in questo caso noi permetterci un'eventuale perdita in determinati anni anche fino al 50%. Ma questo perché? Perché se andiamo ancora sotto vediamo come i ritorni nel lungo termine ovviamente sono anche se vogliamo un po' proporzionati anche al rischio. Infatti andremo a comparare massima perdita e ritorno nei due portafogli per renderci conto anche quanto questo sia adatto ai nostri obiettivi. In questo caso con questa tipologia di portafoglio ci dice che mediamente sul lungo periodo avremo un rendimento dell'8%. Vediamo come questa linea grigia sia un po' più variabile all'inizio mentre tenda a stabilizzarsi diciamo intorno qui dagli 8 anni in poi. Quindi con un arco temporale che appunto è di almeno 8 anni in questo caso abbiamo una stabilizzazione di questo rendimento ma soprattutto al passare del tempo. Vedete come questo cono si restringe andando a tendere sempre di più verso la media. Questo perché? Perché più passa il tempo più abbiamo la possibilità appunto di raggiungere il nostro obiettivo e statisticamente è più probabile che tenderemo verso la media dell'8%. Quindi dopo 14 anni vediamo che siamo appunto qui tra il massimo valore che possiamo raggiungere è intorno sotto al 15% più o meno mentre il valore minimo è poco sopra lo zero. Il medio è ancora intorno all'8%. Mentre vediamo come sull'architemporale molto breve. Questa è una domanda che anche molto spesso mi viene fatta. Posso investire in azioni con un arco temporale di 2 o 3 anni? Ecco cosa succede. Questa è la risposta. Con un arco temporale di 2 o 3 anni è vero che la media magari è ancora intorno anche all'8-10%. È verissimo. Ma questa è solo una media. Perché può capitare che di essere qui sopra al 20% come può capitare di essere qui sotto. Quindi tra il meno 20 e il meno 30%. Quindi vedete come in brivi architemporali anche fino a 5 anni questa variazione è molto molto alta. Mentre va a stringersi per architemporali più lunghi. Per questo si consiglia sempre di investire, di valutare l'investimento azionario solo nel caso in cui abbiamo lunghi orizzonti temporali proprio per evitare questa variabile molto molto alta iniziale. Quindi vi lascio poi qui alla scoperta del sito e di tutti i vari tool perché ce ne sono davvero molto interessanti. Come questo per esempio ci dice l'indipendenza finanziaria. Qui possiamo mettere inserendo che se io riesco a risparmiare in questo caso il 50% del tuo stipendio. Dopo quanti anni possiamo raggiungere la nostra indipendenza finanziaria. In questo caso ci dà un minimo di 10, un massimo di 20 anni. Partendo da zero risparmi iniziali. Ovviamente se noi magari riusciamo a risparmiare meno, il 40%, ma magari partiamo da, abbiamo già due anni di risparmi. Quindi può essere che il nostro dato ovviamente cambia. In questo caso ci dà da 10 a 21. Comunque giocando su questi parametri potete avere tutte le informazioni possibili e immaginabili su questo strumento finanziario. Passiamo adesso invece al confronto con un altro tipo di portafoglio più bilanciato, l'all season portafoglio. Questo portafoglio di come è composto? Abbiamo un 30% total stock market, 40% quindi mercato globale azionario, 40% sono bond a lungo termine, quindi obbligazionario a lungo termine, 15% obbligazionario medio termine, 7,5% commodity, 7,5% euro. Infatti qui vedete come è cambiato rispetto a quello iniziale dove era 100% in questo riquadro qui, come sono state variate le percentuali e questo appunto potete giocare voi su queste percentuali per avere il vostro portafoglio. Vediamo subito come questa campana iniziale che se la andiamo a riprendere sul portafoglio 100% azionario vediamo come c'era una divergenza, quindi una variazione di dati molto molto più larga rispetto a questa qui, infatti la divergenza qui è scesa a 7,9. Infatti i valori sono molto più concentrati intorno al valore medio, quindi abbiamo una variabilità molto minore, lo vediamo pure da questa linea marcata appunto qui dove possiamo notare che sia i massimi sono intorno al 20 ma anche i minimi, guardate qua, sono poco sotto il meno 10%, mentre se lo paragoniamo con il 100% azionario vedete quanta più variabilità c'è da meno 40 a più 30 e questo appunto come dicevamo prima è misurato da questo parametro qui. Quindi siamo di fronte a un portafoglio molto più bilanciato, molto molto meno volatile, che quindi potrebbe rispecchiare molto di più quelle che sono le esigenze di un investitore medio. Anche qui abbiamo gli stessi grafici sui quali potete appunto andare a variare i vostri parametri per capire se il portafoglio è adatto al vostro obiettivo, alle vostre aspettative, ma soprattutto vediamo qui il drawdown. Vediamo soprattutto quanta differenza c'è dal 100% azionario. Mentre il 100% azionario, guardate, ha un massimo del 49%, l'all season non raggiunge intorno al 16% come valore massimo. Quindi vedete che c'è molta molto meno variazione rispetto all'altro. Quindi è un portafoglio sicuramente molto più strutturato e come paghiamo questa minore volatilità? Ovviamente la paghiamo in termini di rendimento. Infatti abbiamo un rendimento medio qui a tendere del 5-6% confronto all'8% del 100% azionario. Anche in questo caso vedete quanta più volatilità c'era qui, partiamo da più 25-30%, mentre qui guardate come il cono è molto più stretto e soprattutto già dopo tre anni abbiamo dei valori che sono già molto più accettabili. Infatti abbiamo una variabilità che va dal meno 5% al più 15%, quindi già è un portafoglio che comunque dà i suoi risultati molto prima, ha una variabilità molto molto minore. Paghiamo questa variabilità in termini di un minore rendita, 5-6 contro 8%, però qui sta la scelta di ognuno di noi. Cercare di capire che devo per forza cercare di arrivare all'8% e subire, rischiare con la variabilità molto alta o posso invece fare un portafoglio più bilanciato che mi dà storicamente parlando, ovviamente questo non è garanzia dei risultati futuri, ma che storicamente parlando mi dà, è vero, un rendimento minore del 5-6, però vivo molto più tranquillo perché non rischio una perdita massima del 49%, ma rischio solo una perdita massima del 16%, sempre storicamente parlando, e ho una variabilità molto molto ridotta. Quindi vi lascio con questo bellissimo strumento, potete scegliere il portafoglio che più è adatto alle vostre caratteristiche, potete costruirlo in base alle vostre esigenze e andare a studiare quali sono stati i rendimenti storici di quel portafoglio, con, sembra in mente che il rendimento storico non è mai garanzia dei rendimenti futuri, però almeno abbiamo dal punto di vista probabilistico, statistico, con questi dati dal 1970 ad oggi, che ci danno appunto una tendenza, un'idea di quello che potrà essere, di come si potrà comportare il nostro portafoglio da qui in avanti, soprattutto nel lungo termine. Fatemi quindi sapere quali sono i vostri commenti riguardo come voi avete strutturato il portafoglio fino adesso, fino a questo momento, come lo avete gestito e se avevate preso in considerazione anche il calcolo di questi parametri molto molto importanti nella costruzione del vostro portafoglio. Ciao e buon dividendo a tutti!